Con la scadenza ad ottobre 2016 del periodo di concessione, torna all'asta la gestione dei due bar del litorale di Riva del Garda. Il chiosco bar Spiaggia ai Sabbioni e il chiosco bar Spiaggia ai Pini. L'amministrazione comunale, proprietaria degli immobili, ha pensato di lasciare sostanzialmente uguale la base di partenza per il rilancio, un canone di affitto di 55 mila euro all'anno. Qualche modifica per la durata del contratto ora di 4 anni più due, prorogabili a discrezione dell'amministrazione municipale medesima. Il bar Sabbioni è di 85 metri quadrati e vanta di altri 150 metri quadrati di plateatico, mentre il bar Ai Pini è la stessa metratura, ma 280 di plateatico. Attraverso due distinte procedure di asta pubblica verrà giudicata la gestione a chi presenterà la migliore offerta. Il contratto scadrà il 31 dicembre 2020. Potranno concorrere soggetti di provata professionalità che dimostrino di aver esercitato l'attività di esercente di pubblico esercizio per almeno tre anni, anche non consecutivi, oppure per avere svolto lavoro dipendente per almeno tre anni, negli ultimi cinque anni anche in maniera discontinua presso pubblici esercizi per la somministrazione o preparazione di alimenti e bevande con qualifica di addetto, preposto o socio lavoratore.